Sindaco Stefanelli, oggi lei ha usato una metafora di natura geometrica, c'è un quadrato che è rappresentato dal castello, dal lungomare, dalle sieci e soprattutto dalla riviera di Levante, per giustificare e soprattutto per anticipare la pubblicazione di questo concorso internazionale di idee proprio per la riqualificazione della sponda destra del garigliano. Sì, in realtà è un triangolo, è un terno, una triade di progetti su cui stiamo lavorando ed è anche una triade di luoghi, c'è il centro storico di Minturno con il progetto del castello che è già avviato, è passato alla prima fase, è in corsa per un finanziamento importante dalla regione Lazio con l'idea di farne un grande attrattore culturale che racconta il nostro passato in una chiave con delle tecnologie moderne, intorno al quale ricostruire lo sviluppo del centro storico di Minturno. C'è l'area archeologica, il garigliano, il progetto, il bando di idee, il concorso di idee che abbiamo avviato oggi e la collaborazione sull'area archeologica per far ripartire la riviera di Levante. Poi c'è il terzo punto, la terza mole di progetti che riguarda il lungomare, il waterfront, il lungomare di scavoli di marina con la riqualificazione del grande complesso delle secce. Il primo è già, il castello è già molto avviato, sul secondo oggi abbiamo messo un altro punto importante ma in queste settimane ne stiamo mettendo tanti con gli scavi archeologici, i lavori di recupero del ponte borbonico. Sul lungomare abbiamo lavorato, adesso non ci manca di avviare un progetto sull'esici che già abbiamo, dobbiamo semplicemente individuare le migliori forme di finanziamento o comunque trovare le forme di collaborazione. In tutti e tre questi percorsi camminiamo insieme alla sovrintendenza, camminiamo insieme non contro, non distanti ma insieme, proprio a dimostrazione che vogliamo valorizzare non solo riavviare dal punto di vista economico ma anche e soprattutto valorizzare dal punto di vista della conservazione e della bellezza della nostra storia e dei nostri beni archeologici. Naturalmente la stima di questo progetto dipenderà anche dalle candidature che saranno presentate. Lei ha detto che le soluzioni per realizzare un domani sono due, o un progetto di finanza con l'apporto dei privati o con il coinvolgimento diretto dell'amministrazione comunale. Ho un leasing in costruendo in cui il comune ovviamente valorizzando la parte che ha un rilievo economico e può avere un rilievo economico importante tipo i posti in barca per essere chiari o la gestione del porto riesce anche a finanziare quella parte del progetto che riguarderà l'interesse pubblico e che non ha un valore economico diretto ma indiretto riguardante magari lo spostamento della strada, la valorizzazione delle preesistenze archeologiche che da anni giacciono nascoste in una parte del territorio. Insomma credo che questi siano i due canali, o il leasing in costruendo o il progetto di finanza ma questo dipenderà anche molto dalla idea progettuale che si aggiudicherà il bando di concorso che per la prima volta viene pubblicato e viene avviato nella nostra amministrazione e di questo do atto anche all'assessore Bembo e al dottor Sarau di aver avuto l'idea di aver avuto anche la pazienza di lavorarci sopra e facciamo un bando di idee proprio perché non vogliamo prendere un professionista, non vogliamo scegliere l'amichetto, non vogliamo scegliere il luminario dal grande nome ma vorremmo avere la possibilità di scegliere l'idea migliore. Dottoressa Bellini, lei è stata per tanti anni apprezzatissima responsabile del compresso archeologico di Mintuno ora naturalmente lavora per la sovrinderenza archeologica del Lazio. Vi faccio una domanda un po' cattivella perché è un progetto importante, bisogna credere anche nei sogni come dice il sindaco Stefanelli, ma qui bisogna mettere attorno a un tavolo 17 enti. Io non vedo negativo e è difficile mettere intorno a un tavolo 17 enti perché d'altra parte abbiamo lo strumento per esempio della conferenza di servizi che proprio snellisce questa... Il punto è di sollecitare l'interesse di questi enti, gli enti devono capire che questo è veramente il futuro di quel territorio in particolare e di Minturno in generale. Il motivo per cui io sono stata sempre, assolutamente, palesemente contraria agli attracchi folli sulla sponda destra del Garigliano è stato perché venivano usati che è consentito in un termine proprio come parcheggio delle barche. Noi assistevamo, so che si dice ormeggio ovviamente, noi assistevamo a un certo punto dell'anno verso maggio al passaggio di camion pesantissimi che camminavano sulla via Punta Fiume che oggi si chiama Ferdinando II di Borbone per andare a scaricare nel fiume queste imbarcazioni che non costituivano una ricchezza per il territorio perché erano imbarcazioni che poi uscivano dal fiume per andare altrove. Il discorso del Garigliano deve essere invece un attrattore di gente che da fuori con le barche di qualsiasi estanza viene a Minturno, risale il Garigliano, ormeggia le barche, porta ricchezza nella zona portuale e nella zona poi che da lì si dirama per tutto ciò che c'è da vedere di artistico, archeologico, enogastronomico, monumentale per assaporare la bellezza del centro storico di Minturno che io continuo a chiamare traietto con la vecchia denominazione o la bellezza di Montedoro o magari arrivando anche a Gianola. Questo deve essere lo scopo della portualità di Minturno e per questo sono stata sempre contraria agli attracchi lungo il fiume proprio perché erano contrari a questo principio. Ecco, questo concorso nazionale di Dottoressa Bellini può confermare anche questa bellissima idea che lei appunto sta estermando, cioè che devono arrivare dall'esterno verso appunto la foce per scoprire questo territorio. C'è questa sufficiente consapevolezza, è maturata questa cultura, Dottoressa Bellini. Io mi auguro, in tanti altri posti questa cultura c'è in assoluto, tant'è vero che i porti o i porti canale sono proprio organizzati in questo modo. Qui noi dobbiamo farla nascere e incentivarla, svilupparla, d'altra parte il Garigliano fin dall'antichità era la via d'acqua, è stata sempre la via d'acqua che consentiva la comunicazione commerciale e di popoli dal mare verso l'interno e dall'interno verso il mare. È stato agli inizi del Medioevo il corridoio a mare addirittura dell'ambazia di Monte Cassino e quelle cose spettacolari che noi abbiamo scavato tanti anni fa nel castello di Visuio, degli affreschi spettacolari che sono ancora più belli, più ricchi con uso di Lapislazzuli eccetera rispetto a quelli di San Vincenzo al Volturno. Significa proprio la grande valenza che il Garigliano aveva per l'ambazia di Monte Cassino e quindi questo corridoio a mare. Non a caso sorse le due torri dopo la cacciata dei sierocenti la Turis a mare e la Turis Garigliani proprio per difendere questa via d'acqua e questo deve ritornare ad essere il fiume. Grazie dottoressa. Mino Bempo, avvocato Mino Bempo, assessore ai lavori pubblici del comune. L'autoressa Bellini ha lanciato un'altra per certi versi idea. Lei lo ha detto anche in conferenza stampa. Questo progetto potrebbe anche forse accelerare l'iter per rendere navigabile il corso d'acqua. Lei lo ha detto ufficialmente, giuridicamente già lo è, però materialmente avvocato Bempo purtroppo non è così. Sì, allora la questione della navigabilità del Garigliano è una questione abbastanza complessa, se non molto complessa, semplicemente perché la procedura di liberazione della foce richiede una particolare attenzione per le modalità in cui deve essere effettuata. Ad oggi non esiste un ente che è preposto alla cura della foce, che quindi possa poi assumersi l'onere anche finanziario di liberare dalla barra di Sandia. Ovviamente noi andiamo in questa direzione. Nel momento in cui questo progetto, se vediamo quanto sia possibile, è realizzato, questo problema sarà risolto perché assumendo tutti gli effetti e la situazione del quale si potrebbe tornare a navigare il fiume nell'entroterra come lo è stato per secoli avvocato? Io dico di più, si deve tornare a navigare il Garigliano, sia perché per le pezze paesagistiche che sono veramente il fiume nell'entroterra come lo è stato per secoli avvocato, ci permette di scoprire davvero un paesaggio incontaminato dalla bellezza naturalistica, davvero improvabile in un giudice. Quindi è un dovere, non solo di questa manifestazione, ma anche di tutti i dottoressa Bellini. Sinora la riva destra era un parcheggio, era un ormeggio dove c'era il far west e c'era l'anarchia. Con questo progetto si vuole praticamente concretizzare l'opposto, far venire la gente a Minturno e soprattutto lungo questo tratto di mare e poi riscoprire il bellissimo territorio circostante. Sì, allora la Darsena, questo invaso, non è per noi un punto di partenza, perché il sviluppo di tutta questa parte del territorio rappresenta un'assee fondamentale, quindi come è in turno. Soprattutto il mondo deve diventare il punto di partenza di un nuovo corso, anche economico, privato, distributivo. Deve un punto di partenza perché questa può venire, può fumeggiare in sicurezza, può anche costruire in mancazione di una certa voltata di venire e conoscere il nostro territorio, il territorio, il territorio, il territorio.